Dunque, brevissime parole per chiudere almeno con poche note il forum, siamo tutti stanchi e poi c'è la parte dei ringraziamenti e poi una piccola sorpresa. Quindi vi prego di supportarmi un poco. Io sono Chiara Pirovano, sono del WWF Italia e insieme a Paola Brambilla che è qua presente del WWF siamo stati tra le associazioni promotrici del Comitato Espo dei Popoli a partire dal 2011. Ho l'onore e l'onere di chiudere questo forum, siamo arrivati alla fine del forum e tutti l'hanno un po' detto che è stata una tappa, quindi non né un momento di partenza né un momento di conclusione, ma una tappa di un percorso, e l'abbiamo scoperto bene in questi tre giorni, di tutta la società civile e dei movimenti contadini a livello internazionale. Un percorso che è come un fiume, che è fatto di tantissimi sorgenti e di tantissimi corsi d'acqua. Noi abbiamo semplicemente voluto, nel 2011 ci siamo trovati per questo, portare la voce della società civile unita in questo momento e che avesse un focus fondamentale, cioè quello della sovranità alimentare e della giustizia ambientale come progetto politico. Ovviamente ai posteri l'ardua sentenza, nel senso che in qualche modo valuteremo, faremo i bilanci, però ci possiamo dire, credo, come comitato organizzatore, contenti di come è andata. E adesso per rispondere alle domande più tecniche, appunto, cosa succede ora? Allora, voi sapete che questo forum è stato costruito, proposto dal comitato organizzatore Espo dei Popoli, ma poi è stato pensato, organizzato e anche il documento di ingresso del forum, che si chiama Input Document, è stato definito a livello internazionale da un comitato di facilitazione, che ha coinvolto 14 reti della società civile internazionale e dei movimenti contadini. Questo documento, in realtà, non fa altro che fare la sintesi di quei famosi percorsi di cui parlavo prima, e quindi, alla fine di questo forum, ci sarà un documento sintetico di quel documento di lavoro, che riassume la nostra comune visione, questa è la cosa, secondo me, importante che ci ha tenuto insieme fino adesso e credo che poi ci starà insieme in futuro, è un insegnamento che viene anche dalle reti che sono venute qua a Milano, cioè quello di trovare dei punti in comune, delle cose che ci uniscono e di combattere su quelle. Mi sono andata a rileggere il manifesto che abbiamo scritto all'inizio con le varie associazioni qua italiane, più di 50, che poi sono stati promotori e poi aderenti successivamente, e in effetti una parola che ricordiamo sempre è quella della responsabilità. Noi ci siamo sentiti responsabili per la società civile internazionale che venisse a raccontarci quell'impegno che è molto difficile portare nell'attualità, portare nei giornali, portare in expo, portare per la strada. Quindi veramente vi ringraziamo tantissimo, è un sentimento di gratitudine veramente profonda che mi permetto di estrimere a nome del comitato, è quello per la vostra presenza, per le vostre persone, la forza, l'entusiasmo, l'impegno. Ci sono stati degli elementi critici come quelli che ci hanno raccontato i bravissimi relatori oggi, ovviamente ce ne sono, sappiamo che la battaglia è lunga, ma ci avete fatto vedere anche dove ci sono state delle vittorie, cioè delle cose che funzionano, cose che 15 anni fa dicevamo e sembrava solo patrimonio di pochi, degli utopisti, in realtà adesso avvengono, quindi in 20 anni, 25 anni le cose possono cambiare, è lento, però secondo noi tutti insieme possiamo fare un passo avanti. Quindi vi dicevo, il percorso prevede di poi raccogliere tutti i report dei cinque gruppi di lavoro, per chi è arrivato solo oggi, il forum ha avuto delle lezioni magistrali sui vari temi della sovranità alimentare e giustizia ambientale e poi ci sono stati cinque gruppi di lavoro, li ricordo perché sono stati molto importanti, perché sono i temi poi su cui andremo a lavorare in futuro. Quindi il tema dell'agroecologia, di cui oggi abbiamo sentito parlare Mariam e anche Gonzalo, poi abbiamo il tema del water and land grabbing, quindi altro gruppo di lavoro, il terzo sempre molto legato e abbiamo sentito parlare anche questo pomeriggio sui alternative food system e infine gli ultimi due gruppi che invece erano legati agli accordi di libero scambio a livello internazionale e gli strumenti legali che abbiamo ad esempio per inserire il diritto all'acqua come uno dei diritti umani. Quindi questi sono poi i risultati che saranno tutti verbalizzati diciamo dei gruppi di lavoro, grazie al lavoro dei facilitatori e dei rapportori che ci hanno seguito in questi giorni. Potete vedere i risultati appesi cartelloni, appesi al muro, quindi potete anche verificare dopo quanto è stato denso il dibattito. Infine questa verbalizzazione sarà poi inviata a tutti i partecipanti, noi abbiamo una segreteria diciamo eccezionale, quindi abbiamo raccolto tutti i vostri contatti e mail e quindi manderemo a tutti i risultati, oltre ovviamente a questi dieci punti di sintesi del documento su cui si è discusso in questo forum. Ovviamente come comitato organizzatore anche per rispondere alle domande ci impegniamo a raccogliere tutti anche i riferimenti, i documenti, i materiali che ci avete segnalato nel gruppo di lavoro e li metteremo sicuramente a disposizione all'interno del nostro sito. Come già stiamo facendo, stiamo mettendo anche gli appuntamenti importanti di tutte le vostre reti. È una cosa che abbiamo fatto nei gruppi di lavoro e adesso poi la trasferiremo anche sul sito. e ovviamente come comitato organizzatore italiano ci impegniamo ad offrire quindi un contributo di facilitazione per la società civile presente qua ai movimenti contadini e poi anche sarà quello di portare i risultati di questo forum, questo ci siamo impegnati anche dopo questo momento, all'attenzione delle istituzioni a tutti i livelli, dei cittadini e delle altre associazioni. Quindi questo sarà un po' il percorso futuro. Dunque, qualche numero, qualche indicatore, perché ci rappresenta un po' del lavoro che abbiamo fatto insieme. 14 reti internazionali della società civile e dei movimenti contadini provenienti da 50 paesi diversi, 180 partecipanti indicati dalle reti internazionali e dai movimenti contadini, 400 persone in sala circa ogni giorno e invece 500 più 500 persone che hanno seguito, sapete che le plenarie sono state mandate in streaming, quindi per 18 ore di visualizzazione in due giorni. Circa 700 persone hanno seguito i concerti e la parte teatrale, sapete che abbiamo avuto ospiti e ci hanno regalato due bellissime serate, l'orchestra di Via Padova e Frank IA Energy il primo giorno, e il secondo giorno invece, mi dicono di andare più lentamente, e il secondo giorno invece abbiamo avuto Diego Parasole e Giobbe Covatta. E quindi li ringraziamo veramente tantissimo, perché hanno contribuito tanto anche a quell'elemento relazionale che è stata una delle forze di questo forum. Altri numeri, ci sono state 5.000 visualizzazioni sul sito, tra il 3 e il 4 giugno, abbiamo preso 4.100 interazioni sulla nostra foto di gruppo che abbiamo fatto, e valori molto elevati anche per quanto riguarda i post che abbiamo postato su Facebook. 62.500 visualizzazioni di Twitter e oltre 50 testate registrate fra giornali. Allora, io non sono una donna di comunicazione, quindi mi hanno dato questi numeri, io ve li restituisco, ringrazio tantissimo Maso che ha fatto un lavoro veramente eccezionale per tutti noi. Probabilmente lui li avrebbe detti meglio, però diciamo che traducono un po' con i numeri il risultato del nostro forum. Quindi, allora, passiamo alla fase dei ringraziamenti. Ancora una volta ringraziamento a tutti i partecipanti che quindi sono stati delegati dalle reti della società civile internazionale, dai movimenti contadini, per aver accettato il nostro invito e partecipare e anche spiegare tutte e scambiare tutte le esperienze. Quindi un grazie davvero, invito a un applauso a tutti i partecipanti. In più, ovviamente, un ringraziamento sentito alle 50 associazioni, a NG e reti che sono state promotrici e aderenti del Comitato Expo dei Popoli perché tutto questo è stato possibile in qualche modo perché queste associazioni si sono unite e quindi un applauso anche per loro. Infine, come sapete, al di là dei nostri ragionamenti, il progetto politico ha sempre bisogno di anche una concretezza e un lavoro e quindi vorrei veramente fare un grazie davvero sentito da parte di tutti allo staff. Quindi a Cristina Sossan. Brava Cri, Laura Nicolai, Viviana Galanti, Viviana, sono tutti là, sono nascosti. Sempre ancora un applauso a Maso Notariani e Elena per la comunicazione. a tutti i volontari. Io mi ero impegnata, con Cristina ci siamo impegnate a raccogliere i nomi ma mi sono accorta che ne mancavano alcuni. Quindi io direi che ringraziamo tutti senza nominarli ma veramente un grazie perché hanno svolto un lavoro incredibile. In più i tecnici delle luci, i traduttori che ci hanno seguito anche e chi ci ha invece dato da mangiare quindi catering, fornitori e tutto l'aiuto da questo punto di vista che non ci saranno magari in sala però un grande applauso secondo me se rinvita. Allora e infine chiamerei qui Giosuè che non vedo. Dov'è? No, dopo? Ok, va bene, va bene. Ok, allora mi ero segnata una cosa importante che vorrei ringraziare anche Alessandra Cavalli che ha portato la sua installazione qua fuori. Non so se l'avete vista, se vi capita potete visitarla. Vorrei intenzionalmente in italiano, io non sono milanese, sono un pezzo della società civile italiana e un pezzo della società civile internazionale come siamo tutti pezzi della società civile internazionale però dire un grazie anche al comitato di Expo dei Popoli di cui io non ho fatto parte. il comitato Expo dei Popoli di Milano che da Milano testardamente ha tessuto reti, ha costruito un tessuto prima in Italia e poi a livello internazionale perché potessimo essere tutti qui a condividere questa esperienza e qualcuno deve ringraziare, non possono essere loro e allora lo faccio io. Veramente grazie. Sì, ma grazie a Giosuè che allora adesso arriva il momento della sorpresa chiamerei Javier ad aiutarmi. No, però tu conmigo che che chiamerei quando che chiamerei quando quando che vogliamo quando quando globalizziamo la solidarietà globalizziamo la lucha globalizziamo la esperanza e che viva la gente venga che si vieno un applauso con sello si ora che lo repitan globalizziamo la solidarietà globalizziamo la lucha globalizziamo la esperanza globalizziamo la esperanza globalizziamo il amor e di di un trozo di canzone di mia terra per tutte le terras del mondo per ogni popolo per ogni cultura e per ogni coraggio e che dice di questa terra di una terra hermosa dura e salvaje haremos un hogar e un paisaggio grazie 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 grazie